Allora, adesso parliamo delle tipologie invece di aziones e poi in seguito delle tipologie di iudizia, di cosiddetti iudice che, vabbè, sostanzialmente possiamo assimilarli nella misura in cui comunque le aziones, diciamo, le tipologie di aziones di alcune abbiamo già parlato, ad esempio delle aziones in rem e delle aziones in persona poi abbiamo ad esempio aziones penale o azione ripersecutoria o azione mista poi abbiamo, e quindi vedremo bene poi di specificare ciascuna tipologia anche le azioni, chiaramente aziones civiles o aziones onoraria basate sul diritto onorario oppure abbiamo invece tre iudice, ad esempio iudice stricte o iudice bona fide oppure ancora iudice, diciamo, legittima o una distinzione usata appunto tra iudice legittima e iudice coimperio continentro quindi andiamo ad analizzare tutte queste tipologie di aziones e iudizia